Nuova rotatoria tra le vie per Cernobbio e Bellinzona nella zona di Villa Olmo. Il comune di Como ha approvato il progetto esecutivo dal valore di 325 mila euro e allo stesso tempo ha avviato l'iter per l'affidamento dell'appalto. Si procederà con l'indizione dell'affidamento dell'appalto attraverso procedura negoziata con precedente consultazione di almeno 15 operatori economici, selezionando la migliore offerta con il criterio del minor prezzo. A differenza di Piazza San Rocco, nel caso dell'incrocio tra le vie per Cernobbio e Bellinzona, non sarà predisposta nessuna sperimentazione, ma si partirà direttamente con gli interventi per la realizzazione definitiva dell'opera. La nuova rotatoria di Villa Olmo è un'infrastruttura attesa sul fronte della sicurezza stradale della città che riuscirebbe, si spera, a mettere fine a diversi incidenti che si verificano spesso in quello snodo viabilistico.